La prima nomination ai nastri d'argento, la seconda nomination ai nastri d'argento, come hai preso questa seconda nomination ai nastri d'argento? Però me ne hanno anche dato uno come regista di cortometraggi, con il mio corto, quindi è tutto molto assurdo, come l'ho presa? Beh, c'ero solo io. Senti, e cosa significa per te nastri d'argento per un attore, soprattutto la nomination? I premi sono importanti fino a un certo punto e ve lo dice chi non ne ha mai preso, poi quando li prendo comincerò a dire che sono importanti, no, il premio è relativo, fa molto piacere, questa è gente comunque di cinema. Hanno anche dato una nomination a film piccoli, insomma sono stati molto attenti e coraggiosi e questo fa bene. Ciao, ciao.